Non ci sente, può battere un colpo, sì, sulla pagina vedo. Sento pure qualcuno che scrive, quindi forse, ecco, Alberto si sente, Alice alla grande, grazie, ah, dice, sei tu che scrivi? Maria Adele, buonasera, ah ok, quindi ci siamo. Vediamo se ho condiviso quello giusto, ovviamente no. Qui su LinkedIn ci siamo pure, Bruno Strato è in diretta, che bello, quando va tutto bene mi emoziono quasi, è in diretta ora, ok, ciao a tutti, ammazza quanta gente, eh, davvero. Si vede, non sento il figlio di Bruno, ciao Nicola, poi ti richiamo, anzi a volte lo spedisco due settimane, allora, buonasera a tutti, oh, alla grande, oh, avete un bel seguito, eh, sono collegati per voi tutti quanti. Armando dovrebbe farcela, è impegnato, lui praticamente vive online ormai, quindi non so in quale live, in quale live è, però, però, poi, poi arriva. Tanto ormai non interessa più a nessuno, Armando, quindi state tranquilli, sono collegati per voi. Allora, io tolgo la grafica, sembra che è andato tutto bene, così facciamo un po' di saluti e partiamo, eccoci qua, buonasera a tutti e benvenuti in una nuova live nel gruppo di Armando Tavallina, appunto Digital Marketing Turistico, stasera abbiamo special guest Alvisa Borgesan e Alice Marmorini, come dicevo presentatevi voi, perché in questi giorni ho fatto un po' di figuracce con la bio nome azienda, quindi preferisco fate voi, presentatevi brevemente voi e poi andremo appunto a parlare dell'argomento di stasera, che ripeto, ci sono tantissimi collegati, quindi molto, molto interessante per tutti. Prego, siamo cavalieri, quindi Alice sì. Ok, vado io, parto io, mi chiamo appunto Alice Marmorini, mi occupo di formazione e consulenza per strutture ricettive che vogliono ospitare i cicloturisti, quindi mi rivolgo ad un target di clientela molto specifico. Pito? Veloce, passiamo subito al webinar, dato che ci sono tante persone collegate, sono qua per ascoltare i contenuti. Concisa, pragmatica, ti ha spiazzato già. Sì, 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 subito. Io sono Alvise Borgesan e mi occupo del digital marketing del gruppo alberghiero di famiglia e da un paio d'anni tramite il mio brand Hotelling mi occupo di formazione sia per albergatori che all'interno delle scuole sia ai 15-18 anni che ai post-diploma sia formazione per albergatori oltre a consulenza appunto per strutture ricettive sempre nel digital marketing, in disintermediazione e ambito social. Mi dice Daniela che c'è una interferenza, mi confermate tutti? Io sento abbastanza bene, chiaro, limpido, magari se qualcun altro ci dà feedback. Intanto stasera vi dico, parleremo di come generare prenotazioni in ambito turistico in quattro step, poi i quattro step ve li diranno Alige e Alvise e quindi dal contenuto alla conversione, faremo una bella carrellata su tutto, quindi da cosa si va a pubblicare, toccheremo penso tutti i touch point per arrivare poi appunto alla conversione. Giuseppe Cite si interrompe, Carolina sento benissimo, Giovanna sento molto bene, ragazzi allora il problema è vostro, se piove è la vostra connessione, quindi mi dispiace, tutto bene, Beatrice pure, Raffaele, Raffaella, Ferriolo, Michele, perfetto, si sente bene, dai partiamo, tutto bene, ok, lo stage è tuo, come si dice, stage è yours, vai Alige, parto io, parti te, non so se volevi andare con delle slide al viso oppure andiamo a ruota libera, come partire io intanto le mando a… sì, basta che mi condividi lo schermo… sì, aspetta, condividi schermo, ok, datemi un attimo che sto recuperando il materiale. Così magari ci seguono… sì, così hanno una guida e sì… ci seguono anche un po' meglio con una guida, ovviamente se avete domande, il consiglio è quello di farcele magari durante la presentazione, così riusciamo anche a poter rispondere subito, ci capiamo di cosa stiamo parlando. riusciamo a renderlo anche interattivo… esatto… parlate chiara perché ci sta seguendo anche Nicola, Zoppi, se no poi gliela devo rifare per rispiegargli tutto quello che stavamo dicendo, quindi mi raccomando… ok… sono tanti, veramente tanti, stiamo toccando i 100, siamo a 98, dai 100, 100, 100… Mattia chiede di cosa parliamo… tema… parliamo di come generare contatti in ambito turistico, come tutti i vari step appunto dalla generazione del contatto, il cosiddetto lead, quindi una persona che non ci conosce, che non conosce la nostra struttura ricettiva, la nostra realtà, fino appunto alla conversione, quindi accompagniamo l'utente da un perfetto sconosciuto a diventare, si spera, il nostro miglior cliente. Se vuoi Alvise puoi fare a schermo intero così la vedono meglio. Ok, io l'ho condivisa… Sì, sì, non ti preoccupare, noi la vediamo… Ah, voi la vedete… Sì, sì, adesso vedono la presentazione e Alice, poi man mano che parlate aggiungo, vi tolgo, come volete. Sì, io direi di far partire Alvise… sì… in alcuni punti magari dando anche dei consigli per chi è interessato al target più dei cicloturisti… Volentieri. Abbiamo superato di gran lungo i cento, quindi Vazzanicchi ha vinto, vai Alvise, alla grande, vai. Ok, recupero una presentazione… Solo che non si vede a schermo intero… Cosa, scusa? Non la vediamo a schermo intero, si vede la parte, la barra sopra, strumenti, home, tecniche di lead… Ci sono un attimo… Vai, vai. Ok, l'ho messa. Dimmi se… Vai. Ok, qua riprendo una presentazione che avevamo fatto e Alice non molti giorni fa, sempre in ambito di lead generation e quindi eravamo partiti con questo concetto del content, in quanto quello che andremo a vedere parte proprio dal concetto del contenuto, che è quello che ci può portare poi alla conversione finale, che quindi il contenuto può essere il carburante per i nostri sforzi dedicati alla lead generation, cosa che adesso andremo a vedere e cosa andiamo a intendere con questa bella frase di apertura. Quello che volevamo andare a vedere era una semplificazione diciamo di un funnel, come arrivare a una conversione che non deve essere in maniera per forza diciamo una prenotazione ma possiamo anche dopo toccare diversi tipi di conversione partendo dal concetto del contenuto per vedere poi come si sviluppano le visite a questo contenuto, quindi a farlo conoscere ai nostri potenziali clienti, utenti per arrivare poi al lead, quindi all'acquisizione di un contatto utile, un contatto di qualcuno in target, qualcuno che può essere interessato a un nostro prodotto, qualsiasi esso sia, quindi possiamo anche riapplicarlo fuori dal mondo turistico, acquisito il contatto la parte più dura in assoluto è quello di fare in modo che quel contatto diventi un ospite, un cliente oppure un altro tipo di conversione ma che ci possa essere tutto un altro tipo di passaggio Alvise scusami se ti interrompo, io continuo a vederla non a schermo intero, comunque rispondo intanto a Carolina Pena Herrera ci dice ci sarà una registrazione così lo possiamo riguardare sì certo, questo rimarrà live sia su Facebook che su Youtube, anche su LinkedIn potrai rivederlo in qualsiasi momento, Daniela che si dice è bloccato tutto ma io continuo a vedere che sta scorrendo quindi magari dateci altri feedback, non lo vedo come presentazione Alvise, si legge sono a schermo intero quindi non saprai cos'altro fare, beh dai continua, si legge si vede solo la parte home strumenti però non è grave dai, mi dispiace perché sono a schermo intero, non preoccuparti, non saprai cos'altro fare, quindi questo, ok il primo step quello che mette un attimo in chiaro la parte del contenuto perché c'è sempre un contenuto per toccare il nostro potenziale cliente visitatore, se deve appartire un contenuto, un contenuto che sia organico o che sia generato da un'inserzione da qualcos'altro, c'è un contenuto, qualcosa da mostrare, da far vedere, è il nostro obiettivo nella prima parte della, oltre a creazione e produzione di contenuto, ma è quello che si cerca di dare agli utenti un contenuto di valore e di qualità, che possa essere all'interno del nostro sito, all'interno dei nostri social, si cerca di fornire una foto, un video, un post, un articolo di un blog, oppure come abbiamo visto anche con Alice, delle guide, ci sono varie modalità di contenuto che si possono fare, generare, promuovere e il problema che nasce spesso è che le persone dicono io non so cosa far vedere, non so cosa mostrare, non ho niente da dire, io sul non ho niente da dire ci credo poco, nel senso che probabilmente non si conosce il modo per metterlo giù, per presentarlo, ma sul non ho niente da dire assolutamente no, perché tutti abbiamo qualcosa da dire, tanto più ragazzi, perdonateci, dovremmo essere in nuovo rive, è stato un piccolo problema tecnico, forse stasera Armando non doveva esserci, era un segno, facendolo entrare è saltato tutto, però bene dai, sbloccato, dice siamo ripartiti, quindi dovrebbe essere di nuovo tutto a posto, perdonateci per questo problema tecnico, adesso penso che siamo ripartiti, salutiamo Armando intanto che si è liberato ed è arrivato, Alvisa perdonami, ti ho stoppato, stavamo entrando nel pieno e è saltato qualcosa, dai adesso ricominciamo, non so se vuoi riprovare a condividere lo schermo, ce la rischiamo, sono problemi poi stacchiamo tutto, io ci riprovo e te le rimando in condivisione, eh no salta, niente, allora stiamo senza, stiamo senza slide, dai, allora stiamo senza, chi le vuole, appena le condivisi erano scomparsi Armando e Alice, allora lasciamo perdere le slide, qui siamo, andiamo avanti pure così, poi chi le vuole le slide si inviano, le condividiamo in un secondo momento senza problemi per chi volesse recuperare magari tutto il discorso fatto, dai, quello che stavamo vedendo era appunto la prima parte, quella più dedicata al contenuto e quindi cosa pubblicare, il come, perché e il quando per poter cominciare ad avere un primo contatto con il nostro potenziale cliente, viaggiatore, che possa quindi si spera nutrire un interesse verso la nostra struttura, che possa sfociare poi un contatto vero e proprio, una prenotazione, una conversione di vario genere, abbiamo detto appunto che si cerca di fornire agli utenti un contenuto che possa essere di qualità, che possa essere foto, video, guide, presentazioni, ne abbiamo viste anche io e Alice quando parlavamo delle guide magari per i cicloturisti, nel caso che avevamo fatto noi, ma di certo non mancano, diciamo, le opzioni su cui andare a puntare, basta solo farsi un po' di chiarezza a volte nella testa e capire che c'è davvero tanto da dire, che sarebbe molto bello condividerlo anche perché chi vive dentro una struttura può raccontare le cose con un amore, una passione che solo lui può trasmettere e che di sicuro è un bello che riesca poi a raggiungere le varie persone che sono interessate alla struttura. Quello che dicevo è che un punto difficile magari di questa prima parte iniziare il contenuto è quella legata anche a conoscere il proprio pubblico, quindi cercare di offrire qualche argomento che sia in target e che possa interessare, quindi cercare un attimino di mirare e di puntare nel verso giusto, quindi non disperdere energie magari in qualcosa di oltre, quindi anche se quello che potrebbe magari essere per noi una cosa di un certo interesse, bisogna poi vedere ovviamente a chi la si offre, come e perché, e questo era un esempio magari dei punti un po' più difficili, non evitare di disperdere energie. Ok. Creazione di contenuti, insomma, porta via del tempo e degli sforzi anche mentali, quindi si cerca sempre di fare, di ottimizzare al massimo. Il contenuto può essere un'ottima base di partenza, in realtà ci sarebbe uno step zero che è il prodotto, ma non ne parliamo qua, comunque un contenuto... Facciamo un'altra diretta. Si apre una voragine lì. Per quello non la mettiamo, la diamo tra parentesi come cosa acquisita, che dietro è anche un prodotto, quindi bisogna cercare di essere un po' coerenti su quello che si ha e la prima roba sembra sistemare il proprio prodotto, che sia la propria struttura o quello che vai comunque ad offrire. Poi ci sono situazioni magari più quelle che segue Alice dedicate anche a un ambito che toccano le esperienze, quindi che possono essere diverse da quello che vivo più io, quindi magari un turismo balneare di un altro genere. Quindi chiudiamo sul prodotto perché secondo me andiamo avanti all'infinito. Nella seconda fase io produco un contenuto, ci dedico del tempo, degli sforzi, voglio raggiungerle persone, voglio raggiungerle però perché se io produco qualcosa in tutti gli sforzi che ho fatto e non la faccio arrivare a chi di dovere, insomma ho perso tanto tempo. E anche qua, come far vedere un contenuto? Qui si possono aprire un altro mondo. Il problema di questo webinar è che ogni dei quattro punti che tocchiamo aprirebbero altre… Altri quattro webinar. Sì, minimo. Minimo altri quattro. Quali sono i quattro step? Li ho già letti tutti? Forse me lo sono perso. Partire del contenuto per passare poi alle visite, quindi a promuovere il modo corretto, ottenere un lead, quindi un contatto di qualcuno interessato, per arrivare al quarto step di una conversione che sia una prenotazione ma può essere anche di altro genere, dipendendo da che tipo di obiettivi commerciali e strategici ci siamo posti in quel punto, in quel momento. Non tutto deve sfociare sempre una prenotazione, ci possono essere anche altri tipi di conversioni. Poi è ovvio che la prenotazione non plus ultra, alla fine se c'è prenotazione un cliente pagante è una cosa migliore, ma ci possono essere anche conversioni dove non ci sono un giro economico che possono essere comunque estremamente utili. Conversioni come... Io avevo fatto un magazine, quindi puntavo come conversione al download di questo magazine in cambio di magari qualche informazione al cliente. Al mare lì ci lavora più su descrizioni al newsletter, credo su altri tipi di contenuti. Cioè ci sono altri tipi di conversioni a cui si può comunque puntare? Dipende anche dallo step in cui vogliamo andare a lavorare, se in fase di ispirazione, quindi magari siamo una struttura recettiva in un territorio diciamo un pochino meno conosciuto per il cicloturismo rispetto ai giganti quali Dolomiti, Livigno o Romagna che hanno già iniziato a lavorare da tanti anni, quindi nell'ambiente sono destinazioni top, quindi noi magari dobbiamo inserirci in questo contesto, dobbiamo andare a lavorare più sull'ispirazione, quindi magari è più utile andare a promuoverci con dei video, quindi far proprio vedere, far immergere quella persona che sta dall'altra parte del monitor sul nostro territorio per catturarla, ispirargli qualcosa, una scintilla che poi iniziamo a nutrirla successivamente magari con delle newsletter oppure con dei post sui nostri social, fino a portarla all'ultimo step che è quello sul quale viene sempre basato il risultato di un'attività che vuoi o non vuoi è la prenotazione in struttura. Assolutamente, infatti ripeto che quel percorso che adesso stiamo cercando di vedere ovviamente è una semplificazione di processi che possono risultare molto più articolati, noi li abbiamo divisi in queste quattro step, in queste macro categorie, però in realtà, come appunto ha detto Alice, poi dipende anche dalla fase, dal momento, da quello che si fa, non è che magari come ho descritto la newsletter, questa conversione finisce tutto lì, poi si ricomincia il processo prendendolo parallelamente un po' diversamente per arrivare poi comunque a una prenotazione, ovvio che qua per tempistiche e modalità abbiamo dovuto fare una semplificazione, però ripeto dentro ognuno di questi step ci sta un mondo, ci sta semplice, magari messa giù così, però c'è davvero un... eh sì, eh sì, eh sì, ma è il famoso funnel? eh sì, ce ne sono di diversi tipi, questo non mi ha fatto uno piccolo a quattro step, ma possiamo continuare non so con quanti altri per arrivare poi con diramazioni a destra e a sinistra... che io sento sempre parlare di sto funnel, quindi mi ero curioso di capire... dipende quali... se stiamo effettivamente parlando di quello... tutto viene chiamato funnel ormai, di questi tempi... ma a me è passato di molla anche il funnel, no? Dicono che c'è il flywheel adesso... sì, ora sì, ora sì... ecco, vedi, non è più un funnel... gli imbuti, gli imbuti non funzionano più... è morto pure il funnel... esatto... diciamo, c'è sempre qualcosa di nuovo, di aggiornamento in qualsiasi cosa, quindi... questo, vabbè, tornava utile come semplificazione per svegliare questo ordine più o meno logico o mentale che cercavamo di fare per... per arrivare al... dal punto A al punto Z di questo percorso, poi in realtà... Ah, è molto... come dire è molto interessante, io condivido, poi insomma lo sapete che vi seguo, e leggo le vostre newsletter, sono iscritto ai vostri blog, quindi... vi faccio un bel endorsement perché... ritengo che ci sia tanto lavoro da fare, quindi... va bene partire da un... questo concetto del funnel... va bene il discorso dei contenuti... il vero limite che a volte vedo da parte degli albergatori italiani è che forse non hanno ben in mente... come dicevi te albise, che tipologia di contenuti produrre... perché finché ha un target ben specifico ed è forse quello che magari... Alice segue un po' di più perché è molto focalizzata sul topic del bike... quindi i contenuti... non dico che sono più semplici... però nascono un po' come derivazione logica della destinazione e della tipologia di struttura... per quanto riguarda una struttura diciamo che non ha ben definito forse un target... quindi penso al classico albergo romagnolo, al classico albergo magari di città... che è un target anche un po' difficile da identificare... la produzione di contenuti, oltre alla classica guida sul territorio, sui posti da fare, le cose da vedere... le tre cose da fare a Napoli quando piove... quali sono i cinque spiagge segrete della Liguria... insomma le cose che ovviamente chi fa content sa benissimo a cosa mi riferiscono... le cinque anduie più piccanti della Calabria... questa la farà Bruno sicuramente... quindi queste guide sul territorio che vanno benissimo... quali altri suggerimenti secondo voi potrebbero essere interessanti... come piano di content da utilizzare... sia all'interno del blog barra sito... sia anche poi da condividere sui social... o tramite newsletter... o tramite tutta la comunicazione che è un bel come fare... poi le altre idee magari vi sentite di suggerire a un albergo... che si trova in una situazione in cui non sa più cosa produrre... che si trova a scrivere... Felice? parto io... no allora... diciamo sì... tendenzialmente quello che consiglio io di fare è di pensare innanzitutto... alle persone che hanno soggiornato in quella determinata struttura ricettiva... quindi partiamo da quelli che sono stati i nostri clienti... e iniziamo a buttare giù una lista di quello che loro hanno apprezzato... sia della nostra struttura ricettiva... dei servizi... ma anche del territorio... e sono sicura che già partendo da questo... avremo individuato almeno un paio... due o tre contenuti che noi poi possiamo andare ad ampliare... anche successivamente attraverso delle comunicazioni... questo dal mio punto di vista... partire sempre da quello che è stato il nostro cliente... è veramente il punto di partenza... perché per ottenere in genere prenotazioni o tutto quanto... quando facciamo l'analisi dei dati... andiamo sempre a vedere quelli che sono stati i nostri clienti... sono le caratteristiche dei nostri clienti... prevalentemente hanno questa tipologia di età... hanno questi interessi... eccetera eccetera... quindi noi dovremmo cercare di realizzare contenuti... che siano per loro appunto di... non vorrei dire un'altra volta interessante... ma che siano per loro appunto di valore... perché se sono di valore per chi sono stati i nostri clienti... allora saranno così anche per tutte le altre persone... che noi vogliamo attirare nella nostra struttura recettiva... fatto questo... l'altra cosa che consiglio è cercare di andare a trovare un altro angolo... per parlare di un determinato argomento... nel senso che se noi vediamo in rete... che ci sono tantissimi contenuti... o comunque i nostri competitor... vanno sempre a parlare in maniera specifica... su sempre i soliti contenuti... discorsi eccetera eccetera... cerchiamo... da quel... riguardante quel determinato argomento... un angolo... un angolo diverso... e mi spiego anche con un esempio concreto... quest'estate appunto per un cliente... che segue appunto l'attività di blog... volevamo anticipare un contenuto... che negli anni precedenti riscuote sempre un gran successo... che nel mio ambito specifico... è quello delle salite epiche... salite epiche... ne parlano tutti i blog... ci sono tantissimi contenuti... se cercate su Google... o qualsiasi motore di ricerca... salite epiche... o salite che un ciclista deve fare... ci sono veramente tantissimi... tantissimi contenuti... avevamo già parlato di questa... di questa tematica nel... nel blog... varie... ogni anno... perché vediamo che quando inviamo la newsletter... riscuote sempre le tassi di apertura più... più importanti... e a giugno... volevamo appunto mandare una newsletter... che... insomma... dasse un pochino di... di positività... che fosse... diciamo... una newsletter... su cui noi sapevamo che sarebbe andata... in un certo... in un certo modo... e quindi... cosa abbiamo fatto? abbiamo parlato di... sempre quella tematica lì... quindi delle salite epiche... da un punto di vista delle curiosità... cioè... da un'altra... aneddoti... curiosità... che... non c'era online... non ne parlava... non ne parlava nessuno... comunque se ne parlavano... non ne parlavano di... eh... determinate... determinate salite... quindi noi abbiamo... raggirato... siamo andati a... a parlare di un argomento di cui... in quel momento non stava... non stava parlando nessuno... e... ha continuato ad essere un contenuto... eh... un contenuto funzionante... eh... altre cose appunto... potrebbero essere... ma anche più... eh... diciamo... più... più... più sfiziose... da questo punto di vista... sempre per... per questo cliente... a... fine anno... lo scorso anno... avevamo mandato... eh... una newsletter... che parlava... del... di oroscopo... del... di astri... non è qualcosa del... di nuovo... però... ultimamente... non ho più visto... strutture ricettive... o altre realtà... che parlavano di questa... di questa tematica... e... un bike oroscopo... ma avevate previsto il covid? non l'avevamo previsto... infatti... era... era... avevamo previsto appunto... questa newsletter... dove in base alle caratteristiche... diciamo... dei segni zodiacali... consigliavamo determinate nostre destinazioni... quindi se eri... eh... più un... segno tipo... toro... leone... qualcosa del genere... ti consigliavamo destinazioni montane... perché eri forte... volevi la sfida... e tutto quanto... eh sì... questa è carina... questa è carina... va... e quindi... avevamo parlato del... di questa... di questa tematica qua... perché... non volevamo mandare semplici auguri... oppure ci vediamo al... al prossimo anno... volevamo fare qualcosa del... eh... di diverso... volevamo distinguerci... e quindi... ho detto... ma... proviamo... proviamo questa... questo contenuto... effettivamente... è stato... eh... positivo... ha avuto... un buon riscontro... poi... a febbraio... si è bloccato tutto... però... quello è un altro discorso... chiaro... no... beh... il tuo è davvero... ultra interessante... è molto curiosa... anche questa cosa... dell'Orospo... molto... molto bello... sì... cioè... mentre parlavate... stavo anche pensando... che sarebbe stata una cosa carina... che mi sarebbe piaciuta fare... ma... necessitava di un po' di tempo... di organizzazione... ma qua è per farvi capire... come basti... magari spaziare un po' quella creatività... e cercare anche di coinvolgere... magari... le stesse... persone... con te... tipo... noi facciamo parte del programma della Tesla... quindi... insieme ad altre cose... ci siamo dedicati anche... all'installazione di diverse colonne... colonie elettriche... tra cui quelle Tesla... e hanno una bellissima... attrattività... soprattutto... anche nei paesi stranieri... ci hai avuto norvegesi... venuti giù in Tesla... dalla Norvegia... quindi parliamo... sì... di non proprio 5 km di strade... per arrivare... nella zona di Venezia... ma anche una cosa così... in un momento in cui si cerca... sempre di dare un po' un imprinting... una forza... all'impatto ambientale... che si cerca di limitare... già... attaccarsi magari a un programma del genere... può darti qualcosina da raccontare... ma... si può anche pensare... tipo noi abbiamo la laguna dietro... se riuscire a coinvolgere... magari un cliente che è venuto giù... quindi farlo diventare parte attiva di un contenuto... e quindi lo si può invitare a mangiare fuori... e portarlo magari in laguna con la sua Tesla... dove si racconta quindi la Tesla... il percorso dell'auto ecologica... che arriva in laguna... nella valle... in cui poi si va anche a mangiare... a ridosso del doppio dell'acqua... dove si mangia anche una certa cosa della zona... si possono unire tante tematiche... raccontando tipo la laguna da noi di Lio Piccolo... al tramonto con l'auto elettrica... e mangiare la parte locale... cioè nel senso... si può davvero... creare secondo me... tanto... basterebbe... solo a volte pensare... che in realtà c'è sempre tanto da dire... e quello che... un'altra cosa che ho notato... è che quello che per noi è scontato... non lo è per gli altri... noi ci viviamo... cioè i percorsi che fa Alice... quando esce di casa... per lei sono quelli... ma se io vado là domani... mi interessa... a bocca aperta... perché non li conosco... però magari per lei... è scontato... io magari non vi racconto la zona qua... perché per me... cioè ci esco tutti i giorni... e la vedo... ma... non è che tutti stanno qui... non è che tutti la conoscono... e io di sicuro potrei raccontare delle peculiarità... ma anche solamente la curva della strada... dove mi fermavo io col cavalletto... a farne foto al tramonto... che per un altro è un punto della strada X... ti posso dire che a quell'ora... cambia tutto... cioè c'è sempre un racconto in più che si può fare... secondo me... e noi sottovalutiamo molto che gli altri non ci conoscono... non conoscono le nostre zone... le nostre strutture... come le conosciamo noi... dovremmo essere noi i primi ambassador... di tutto quello che c'è qua intorno... secondo me... ok... vi leggo un paio di domande... che ne dite... facciamola interattiva... allora abbiamo Mattia Fantini... che dice... presente... sto rifacendo il sito... ho preso la gestione dell'hotel di famiglia... e convertito in bed and breakfast... da quest'anno... siamo in work in progress... identità da definire al momento... momento critico allora... riassumiamola così... sintesi... ok... punto e a capo... bene... che tu parlavi Alice prima di... puntare ai clienti storici... se non abbiamo una base storica... qua quello che... dipende dal target del... di clientela cui ci vogliamo rivolgere... comunque si va in genere... a lavorare più su una fase... eh... ispirazionale... cioè... se non... se non... dobbiamo... uno storico... dobbiamo innanzitutto... eh... lavorare sulla fase ispirazionale... quindi... eh... fare la classica... attività di generazione... proprio... contatti... eh... e qui... facciamo vedere il nostro... il nostro annuncio... eh... ad un... target... di potenziali... di potenziali clienti... eh... o creiamo appunto un... eh... un contenuto... da dare a questo... eh... al cliente... al potenziale cliente... che può essere appunto anche... eh... una... una guida... eh... come aveva creato anche... Alvise che... eh... ci parlerà poi della... della sua guida... eh... e quindi lì... poi dopo andare a... eh... a nutrire quel determinato contatto... quello che io ho fatto per... per un cliente che mi ha dato degli ottimi... degli ottimi spunti... in pratica... per questo cliente io non ero particolarmente soddisfatta del... di come stavano andando le attività del... di mail marketing... al di là del sito internet... che anche lì c'erano un po' del... di... di problemi... dovuti al... fatto che era un po' vecchio quel... quel sito... quindi c'erano delle problematiche un po' strutturali... non era molto mobile first... eccetera... eccetera... a livello di mail marketing... che... non mi stava dando particolari risultati... non ero molto soddisfatta... cosa abbiamo fatto? in pratica... eh... ho collegato... all'email di benvenuto... che è... l'email di benvenuto è quella... email che... tutte le persone ricevono... una volta che... si iscrive al... ci lascia il suo... il suo contatto praticamente... si iscrive alla newsletter... cosa ho fatto? vabbè... oltre a ringraziare il contatto per... eh... averci lasciato... eh... il suo indirizzo email... per voler leggere le nostre newsletter... io ho detto anche quando... eh... cosa avrebbe... letto nelle nostre newsletter... ogni... ogni quanto... quindi davo anche una tempistica... eh... in cui riceveva le nostre... nostre comunicazioni... ho messo un... grande pulsante... eh... chiedendogli... eh... eh... di... eh... attivare proprio espressamente... alla co-creazione... dei contenuti... che avrebbe voluto leggere... all'interno delle nostre... comunicazioni via email... a questo... eh... quindi... le persone... se cliccavano su questo pulsante... atterravano su... un google form... quindi uno strumento... gratuito... niente di... eh... a pagamento... eh... in cui... c'erano due domande... eh... la prima era... cosa... non... vorresti leggere... nelle nostre comunicazioni... via email... e il non... era voluto... perché... eh... le persone... eh... non sanno mai esattamente quello che vogliono... quindi con il... mentre se io chiedo cosa... eh... non vogliono... sanno invece esattamente cosa... non... non vogliono... quindi... ma la risposta era libera o avevi fatto una... no... a checkbox... in pratica loro mi andavano a rispondere... poi avevo lasciato comunque il campo altro... che potevano anche lì andare ad inserire altre opzioni che io non avevo... non avevo inserito... quindi questa prima domanda era... ehm... a checkbox... quindi indicavano loro... la seconda domanda... invece era stata... qual è la più grossa difficoltà che affronti quando eh... pronoti una vacanza... e questa... in particolare... questa... questa domanda qua... mi ha fornito tantissime altre informazioni... rispetto a quella... quella precedente... ad esempio... mi ha consentito anche del... di individuare... eh... delle persone... che... non avevano mai fatto una vacanza in bici... cioè... erano iscritte alla newsletter... ma... ancora non avevano fatto una vacanza in bici... perché... pensavano che... eh... si sarebbero annoiate... perché erano dei viaggiatori singoli... magari non avrebbero... eh... eh... trovato... eh... un gruppo... eh... di... eh... altre persone... che magari avevano il loro stesso... eh... allenamento... preparazione... quello che si chiama velocità di crociera... in ambito ciclistico... e quindi... eh... pensavano che in vacanze si sarebbero... annoiati... e questo non è assolutamente vero... se... una persona va in un... in un bike hotel... eh... non si annoia... anche se è... sia da sole... riesce a trovare il gruppo... c'è la guida... eh... e tutto quanto... e quindi questo ci è stato veramente... veramente utile per andare a... metter giù... dei contenuti ai quali... io personalmente non avevo mai pensato... e neanche... neanche il cliente aveva pensato... quindi questo sicuramente ti consiglio del... eh... di farlo... chiedere proprio espressamente... infatti... quello che dico... chiedere non è peccato... eh... da questo punto di vista... sono... eh... i clienti molto spesso che hanno... che hanno le risposte alle nostre... eh... alle nostre domande... e... eh... e... scrivere proprio co-creazione... anche questo... è una cosa che ha... che ha giovato... giusto per... per dare un... un valore... questo... questo questionario qui... ha avuto un tasso di completamento... del 75%... quindi... il 75%... delle persone che... eh... ha... eh... ricevuto l'email di benvenuto... in genere... le email di benvenuto... se non lo sapete... sono quelle che hanno... gli open rate... più elevati di tutti... si parla anche di un 80%... 85%... eh... quindi... sono dei numeri... eh... molto elevati... quindi... giocatevi bene... sempre... le email di benvenuto... perché... vi dà... degli ottimi risultati... bene... Mattia dice... infatti... abbiamo fatto appunto... l'anno zero... mi ricollevo a quello che... vi... vi chiedevo prima... e poi dice... l'ho detto sempre che... dobbiamo essere anche... psicologi... brava Alice... ho una domanda... è psicologia... ho una domanda da... un milione di dollari... penso da... da Nicola... magari... saprete rispondere... lui vi chiede... ma un post... con target... ben preciso... e una campagna... ben regolata... e precisa... quante visualizzazioni... deve fare... per riuscire ad avere... una buona percentuale... di conversione? ma... è quel Nicola? no... è Nicola... buon auguro... non è quel Nicola... no... e... io mi scrivo i numeri... perché me li vorrei pure giocare... dai... come rispondiamo a questa domanda? eh... qua è un casino da rispondere... perché... nel senso... per quanto il post... possa essere preciso... in target... hai fatto la campagna più perfetta... bisogna anche andare a vedere... quanto questo... possa essere sufficiente... per andare a portare una conversione... poi... di che conversione parliamo? uno che mi sta prenotando... gli sto... cercando di fargli prenotare qualcosa... o una conversione... che posso chiedergli solamente... qualche contatto... per mandargli appunto... del materiale... perché anche il tipo di impegno... fisico... economico... e psicologico... per le cose... può variare... magari... puoi metterci... cinquanta visualizzazioni... come duemila... adesso c'è... c'è un... un mondo che ci passa in mezzo... cioè... dare una definizione... se fosse una definizione numerica... avremmo scritto un libro di una pagina... di già non contatti... ma prenotazione... sì... a livello di... di prenotazione... in genere... si fanno... varie... varie campagne... almeno quello che consiglio di fare... sono... varie campagne... che vanno ad agire... in... in vari step... momenti in cui si trova... il... quel determinato cliente... se è... in fase del... di... proprio... generazione pura del... del contatto... di... di nurturing... eh... poi vediamo... di retargeting... nel caso in cui... è atterrato sul sito... ma non ha fatto nulla... se è atterrato più volte... se non è atterrato... quindi diciamo... quello che tu vedi... il... la conversione finale... è un indicatore... cioè... non... non sempre... non sempre utile... perché... eh... vai a considerare... solo ed esclusivamente... l'ultimo step... quando poi ne sono avvenuti... tanti... tanti altri prima... cioè... la conversione in genere... ehm... parte molto da... da lontano... se fosse così... così... semplice... eh... probabilmente... eh... eh... saremmo... tutti del... dei maghi del... del marketing... eh... saremmo strapagati... ma è veramente... qualcosa di... di più... di più complesso... ti posso dire che... un... per... dei siti che... dei clienti che... che seguo... abbiamo del... eh... dei tassi del... di conversione... ti parlo non di campagne... perché io le seguo un pochino meno le campagne... ti parlo dei tassi di conversione a livello di... eh... di sito internet... eh... quest'anno abbiamo avuto... eh... dei tassi del... di conversione per alcuni clienti... intorno anche al... al 12%... nel... nel... nel periodo... di e-commerce... parli scusami... di conversione... di... di conversione... sia a livello di... questo cliente spingeva molto sulla... eh... richiesta... richiesta preventivo... ah... è un... è un hotel... è un bv... è un best western... e... spingeva però molto sulla richiesta preventivo piuttosto che la... la prenotazione tramite... tramite... tramite booking engine... eh... 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 comunque... parallelamente ad altri siti internet... eh... che... spingevano molto la richiesta... località di mare... località balneare... località comunque... eh... importanti... eh... un... un 12%... nel periodo... metà giugno... metà... metà settembre... è veramente qualcosa di... di importante... eh... assolutamente... noi avevamo una media mi pare del 7... c'è una media quindi annuale spalmata su 7... con picchi... ovviamente più alti... e punti più bassi... però... tu giustamente hai detto che anche... una campagna che possa essere su Facebook... facciamo un esempio... si... puoi andare anche... tentare di andare dritto al punto... all'idola conversione... però... vuol dire che hai già fatto comunque... tanto lavoro prima... non è che nasci così... e la butti fuori la campagna... altrimenti... per quanto precisa eccetera... può essere abbastanza... un po' dispersiva... ci sono appunto fasi... che prevedono... cioè... il motivo per cui Facebook... pianta un sacco di obiettivi diversi... e anche per aiutare... secondo me... a capire... come ci vogliamo muovere... in che step ci troviamo... perché appunto... una fase iniziale di copertura... può portare appunto... a raggiungere... migliaia di utenti... ma serve più a... far conoscere... un prodotto... un contenuto... un post... qualcosa... e quello tipo di visualizzazione... non mi porta... una conversione immediata... molto probabilmente... ma è la parte fondamentale... per averla dopo... quindi... quella campagna iniziale... non porta la conversione... ma mi ha creato... la base... per andare allo step 2... e cercare quindi... di andare... a puntare più direttamente... poi appunto... ci sono tutte le campagne... di remarketing... su cui c'è un altro... spazio enorme... da... da vedere... su chi ha visitato... determinate sezioni... chi ha iniziato... una prenotazione... chi l'ha completata... e gli vogliamo dare... ulteriori informazioni... o chi si è fermato... un po' prima... possono... partire campagne... di remarketing... per ricordare il contenuto... campagne di remarketing... per fornire... assistenza... qualcosa... che l'ha bloccato prima... campagne... che ho visto... di remarketing... per chi si è fermato... parte... magari... in altre situazioni... non propriamente alberghiere... i... codici sconto... l'assistenza di un altro tipo... tutto quello che può essere... che possa agevolare... il dare il numero whatsapp... per l'assistenza... se magari hanno trovato qualcosa... che non li convinceva l'ultimo... e volevano un contatto immediato... fino a poi... arrivare alle campagne... che possono essere... quelle di lead generation pure... con modulo di contatto... fino a quelle... più dirette finali... della prenotazione... cioè... ci sono tante tipologie... ma si sviluppano... più campagne... in più periodi... che possono durare... anche mesi... perché non è che una campagna... può durare quattro giorni... altrimenti... sì... è come chi gli viene l'ansia... che dopo quattro giorni fa... oddio... nessuna prenotazione... soldi... sì... ancora devo apprendere i pixel... di facebook... dopo quattro giorni... ma se spendo 100 euro... su facebook... quante prenotazioni... quante prenotazioni ho? la risposta giusta... è 100... voi dite 100... così siete apposta... questo è sicuro... non le faccio io le campagne... da far comprendere... un attimino il passaggio... che è un po' più lungo... di quello che ci si aspetta... che non è solamente... mettere i 50 euro... sulla campagna... via sul contenuto... sai qual è... un'altra cosa... che impatta tanto... nell'attività delle social... oltre che le visualizzazioni... che secondo me... è una metrica... abbastanza secondaria... a quanto più che altro... secondo me... il numero di utenti... che vengono raggiunti... quindi quanti utenti ho... nel mio target... quello è molto importante... perché devo capire... se utilizzo... un targeting molto laser... quindi molto specifico... tipico sempre... il remarketing... quindi... la mia... pubblico potenziale... c'è solo coloro... che magari ha fatto... un'interazione sul sito... quindi un pubblico... molto ristretto... o su un pubblico... un po' più grande... e quindi sto... facendo un'attività... di outbound pura... cioè sto facendo conoscere... il mio prodotto a qualcuno... ed ovviamente... molto complesso... come dicevate... specialmente... il servizio che ha lì... ci riuscire a convertire... in termini di prenotazioni... un utente che non conosce... il mio brand... non conosce la mia offerta turistica... magari non conosce anche... la mia destinazione... e anche questo... mettiamoci in conto... noi diamo per scontato... che il nostro target... conosca... dove ci troviamo... qui dobbiamo istruirlo... nei vari step... e dobbiamo capire... quanto è grande... questo pubblico... se inizia... ad avere un pubblico di... milioni di persone... forse... sto sbagliando qualcosa... dovrei un attimo... targetizzare meglio... e ridurre un po' il mio... eh... chi visualizza... diciamo... questa inserzione... il mio pubblico... e sarebbe più specifico... e poi... l'altro aspetto interessante... per giudicare le performance... è il numero di volte... che ogni singolo utente... visualizza... quella inserzione... quindi se inizio a vedere... che ho 100.000 utenti in target... che visualizzano... 30 volte... al giorno... quella inserzione... e non cliccano... con un tasso di clic molto basso... vuol dire che... sto sbagliando qualcosa... o nella creatività... o nell'inserzione... o nella targetizzazione... perché se gli utenti vedono... 40 volte quella roba lì... e non ci cliccano... evidentemente... non sono interessati... o forse non è il momento giusto... o forse non è l'offerta corretta... cioè poi possono essere... migliardi le cose... che devono essere esplose qui dentro... eh... Nicola... Nicola ci ha risposto... scusami... scusami Alvisio... dice grazie... la conferma di... quello che pensavo... certe volte... ho post che convertono subito... e velocemente... con piccoli investimenti... e altre volte invece... tantissime visualizzazioni... e poche prenotazioni... eh... probabilmente... eh... c'è da capire... se... se è difeso dalla... dalla creatività... dal... se c'era un'offerta specifica... il periodo... non dimentichiamoci appunto... anche il periodo... soprattutto... soprattutto... questo anno... siamo stati... eh... sempre in... in un su e giù... dove le cose cambiavano... da una settimana all'altra... quindi... eh... siamo stati sempre... eh... eh... sul pezzo... ogni... ogni giorno... costantemente... quindi... quello che magari pubblicavamo... una settimana... quella dopo... era già... già cambiata... quindi... eh... dipende da tanti... da tanti fattori... quello che... che dico sempre è... cerchiamo di... eh... eh... proprio... mettere giù... quello che ha funzionato... e cercare di... darci anche delle motivazioni... per i... per le quali... eh... quello che magari... non ha funzionato... chiediamoci... ma... cosa è stato... cosa... cosa... cosa è successo... non era il periodo... il tempo... il tempo... la creatività... stavano cambiando... delle cose... sono uscite dei titoli di giornali... eh... eclatanti... eccetera... eccetera... sono tanti... tanti fattori... che... eh... ci possono aiutare... anche nel... successivamente... se si ripetono determinate... situazioni... condizioni... la webcam di... di Armando... tipo frizzata... no? non so se la sua webcam... o se effettivamente... sono gli alieni... perché oggi avevano detto che... saremmo... c'era la notizia... meglio... meglio... scusa... mi stai dicendo... che infatti... è per quello... che si cerca di fare... dei test... proprio per cercare... di capire... alternando... diversi tipi di creatività... di copy... perché anche i testi... possono essere... estremamente forvianti... o estremamente... d'aiuto... in quello che si vuol fare... come gli abitest... sul pubblico stesso... sulle tipologie di campagne... cioè... non bisogna aver paura di... di testare... perché comunque... un test... dopo un tot... di tempo... che ripeto... non a tre giorni... quindi... almeno a vedere... 15-20 giorni... da avere un minimo di dato... un po' più... un po' più solido... ma che poi si possono andare... molto di più... iniziano già... a farci delle idee... io ho fatto... diversi test... su campagne... anche al di fuori... dell'ambito turistico... proprio per vedere... anche segmenti di pubblico... che ricevevano... lo stesso tipo di inserzione... perché hanno comunque... molto simile... se potevo permettermi... di arrivare... a un punto finale... identico... perché si parlava... di un corso... di tutta altra materia... vedere... come reagivano... a quel tipo di... di immagine... o di testo... sono passato... dai caroselli... alle immagini singole... come da fare... altri tipi di... di... di tentativi... di test... a volte... perché la risposta... purtroppo... tu cerchi di averla... sempre il più... il più vicino possibile... alla realtà... o quello che ti aspetti... però... poi le variabili sono tante... una roba... una cosa fondamentale... nel senso... puoi fare anche... una cosa ottima... ma se sbagli il momento... il periodo... potrebbe portarti... nessun risultato... non so... io posso vedere... una mia domanda... da hotel... semistagionale... cioè semiannuale... quindi con stagione... molto lunga... che so benissimo... che ho un ottobre... novembre... da... conca proprio... della curva... verso Natale... quindi ho un gennaio... che si vede il giro di Boa... che la gente spinge... e so che lì... magari posso... spingere... in determinato modo... come un novembre... che mi è molto scarico... solitamente... si può puntare... a un altro tipo... di comunicazione... cercando magari... di promuovere... un'offerta tipo... per il prenota prima... con condizioni magari... particolari... magari fatta... quel tipo di offerte... in un altro momento... non avrebbe... lo stesso tipo di risultato... quindi anche... beccare i tempi giusti... è una cosa... molto difficile... che però... se la... se la indoviniamo... cioè indoviniamo... sappiamo... dove andare a parare... cerchiamo di farla giusta... può di sicuro portare... un risultato... più probabilmente... positivo... Gianluca dice... secondo me... non c'è correlazione... tra il numero di visualizzazioni... ed il numero di conversioni... qualunque se siano... voi che ne dite? no... no... dipende... dipende... no... esatto... tra il numero di visualizzazioni... e il numero di conversioni... ma... non... 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 non sono particolarmente... particolarmente... convinta... nel senso che... se... qualcosa... un contenuto... ha... visualizzazioni... le persone... cliccano... vuol dire che... c'è stato... un... un qualcosa... che le ha fatte... 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 scattare... altrimenti... oggi... con tutta la pubblicità... che c'è... le distrazioni... che abbiamo... le persone... non cliccano... non cliccano facilmente... quindi... se cliccano... vuol dire che... c'è un... un interesse... lo hanno... lo hanno avuto... e... sono già arrivate... sul sito internet... quindi... la landing page... le possiamo anche recuperare... tramite il remarketing... nel caso in cui... alterate sul sito internet... poi... si... non cliccano... perché magari... erano sì... curiosi... però... dai... ne devo parlare in casa... ne devo parlare con il marito... la moglie... eccetera... eccetera... dobbiamo vedere le date... e tutto quanto... quindi... beh... no... non sono... non sono convinta... che non c'è... che non c'è... correlazione... tra visualizzazioni... e... conversione... tendenzialmente... quelli che... che hanno... dei buoni risultati... a livello di... di click... poi... si confermano... anche a livello di... di conversione... perché poi... appunto... come ho detto... li posso andare a recuperare... tramite il remarketing... magari nel remarketing... lo posso... catturare inizialmente... con iscriviti alla newsletter... e quindi... lì... poi lo inizio a nutrire... con tutta una serie... del... di contenuti... perché magari... non erano pronti... in quel determinato... in quel determinato momento... però diciamo... no no scusa Alice... vai vai... vai vai... no no vai... che sto... pensando... che poi rendiamoci anche conto... che il processo... di acquisizione contatti... e di prenotazione... in ambito turistico... sì... parliamo di uno... penso degli ambiti più... complessi... nel senso anche... della quantità di... tempo... visite... strumenti... portali... siti... situazioni... di condivisione... con i familiari... con gli amici... ci sono tante cose... non stiamo vendendo... un giocattolo su Amazon... che uno entra... spende il 19,90... e gli arriva il giocattolo a casa... e finisce lì... noi parliamo comunque... di situazioni... dove... però quando c'è la... quando c'è la camera... che cosa... 19,90... funziona esattamente così... eh... diciamolo anche... a chi svende la camera... diciamo che non doveva essere... infatti un discorso... da camera del 19,90... mi stavo... proviste gratuite... va bene... pensare a un tipo di... di vacanza... di soggiorno... leggermente più... un po' più elaborato... magari... su certe cose... che comunque sì... magari un altro tipo di... impeto... o... attività... poi ovvio... che se devo fare una cosa al volo... e... mi basta solo un letto... alla camera a 19,90... lì ok... poi c'è un altro tipo di ragionamento... se penso magari... un tipo di vacanza... un attimino più... interessante... come durata... come struttura... come persone... che sono con me... comunque... sappiamo che... difficilmente è una cosa... come un po' di visualizzazione... cioè... o si innamora del posto... o parliamo di un albergo di destinazione... che non vedo l'ora di andare lì... perché... sto andando a dormire sulla casa... sull'albero... però... pensiamo che magari... in certi tipi di soggiorni... più laser... più... così... diciamo... rilassanti... comunque la gente... vede più cose... ci pensiamo a uno di più... noi... mancano i posti... dove guardare... confrontare... vedere... penso che potremmo citarne... fino a domani mattina... o di tutti i passaggi... o di tutte le tempistiche... che sono necessarie... per arrivare al punto finale... sì... io... vi ho... vi ho interrotto spesso... volevate voi... ehm... aggiungere qualcosa... continuare... qualcosa sul vostro discorso... se no abbiamo un altro paio... di domande... vi leggo un altro paio di domande? sì sì... ok... abbiamo Valentina... che dice... onestamente... con 100 euro... faccio giusto... awareness... awareness... ricordiamo... il riconoscimento del marchio... eh... per fare un funnel di vendita... completo... partendo da tofu... o spendi 30 euro... il giorno minimo... o non penso si possa fare... sì... dipende... dipende... anche lì... però sì... un budget minimo... direi che deve essere allocato... per forza... all'inizio soprattutto... in fase di... come diceva Bruno... di awareness... però sono campagne... che non hanno... un obiettivo conversione... quindi l'obiettivo della campagna... è far conoscere il brand... far conoscere i valori... e... eventualmente... fare qualche lead... lead... significa... raccogliere mail... telefono e... anche chatbot... infatti la mia domanda... era su chatbot... per capire se... avete avuto modo... di testare... magari che un qualche... albergo... eh... l'utilizzo di un chatbot... su Facebook Messenger... a cui rimandare... gli utenti che cliccano... magari... una sponsorizzata... sia dire marketing... che non dire marketing... eh... in cui si guida... un po' l'utente... verso... la struttura... supportandolo magari... con delle domande... con delle interazioni... vedo che ultimamente... tanti... nell'ambito della formazione... spesso viene utilizzato... questo aspetto... in alberghi qualcuno... ha provato a fare qualcosa... anche degli anni passati... però non li vedo... tantissimo utilizzati... ultimamente... non so se voi... avete un feedback... magari diverso... da questo punto di vista... allora... per quanto riguarda i chatbot... io... li... li... li adoro... da questo punto di vista... mi... mi piacciono... mi piacciono molto... eh... non tanto perché... vanno... alcuni dicono... non lo utilizziamo... perché... togliamo il contatto... il contatto... il contatto umano... io penso che... che se ci sono delle cose che possiamo... automatizzare... con tutte le cose che dobbiamo fare... durante... durante la stagione... imprevisti che vengono fuori... sempre... all'ultimo momento... io sono dell'idea... tutto quello che si può automatizzare... automatizziamolo... ho provato con... eh... con un cliente... personalmente a... ehm... realizzare appunto... a implementare il... il chatbot... più che altro per vedere... eh... chatbot su Messenger... per vedere... la... il feedback... la risposta che... che c'era da parte del... del pubblico... e... eh... inizialmente non... non c'è stata tanta... eh... tanta risposta... da questo... da questo punto di vista... quindi poi la cosa è andata anche un pochino... eh... scemando... l'abbiamo... l'abbiamo lasciato lì... quello che ho notato a livello... eh... personale... utilizzando il... il chatbot... eh... almeno per la tipologia di clientela... a cui mi rivolgo... mi rivolgo io... quindi albergatore... o comunque... ehm... persona che non è proprio... ehm... non ha una... dimestichezza con la tecnologia... magari come può avere una... una persona giovane... eccetera... eccetera... è che ha... se anche scrivi... eh... per interagire... clicca su... sui pulsanti... non scrivere nulla... c'è sempre la tendenza a scrivere... info... info... sì... allora... se scrivono info... va bene... metto il messaggio... la notifica... in automatico... ok... è scritto info... ti do le info... ma a volte iniziano a scrivere... ciao... come stai... tutto quanto... che bello... sentirti... e quindi si incasina tutto... e la funzione del chatbot... eh... svanisce... perché se non... non segui i step... eh... del... del chatbot... si ferma lì la... eh... la comunicazione... ultimamente poi... ehm... ehm... soprattutto il chatbot di... di messenger... ha messo anche del... ha introdotto tutta una serie di... limitazioni anche all'invio del... eh... dei messaggi... quindi si è creata secondo me... un ulteriore grado di complessità... nel senso che... eh... le nuove politiche del... del chatbot di messenger... eh... dicono che tu puoi contattare... l'utente... eh... eh... solo nella finestra di 24 ore... da quando è inviato il messaggio... altrimenti l'utente ti deve cliccare sul pulsante... eh... ricevi le... eh... le notifiche... eh... e quindi è un ulteriore passaggio... eh... che l'utente deve... deve fare... quindi non sempre... anche se magari può essere interessato... mi vanno a cliccare su quel pulsante... per ricevere altre sequenze del... di messaggi successivamente... quindi... diciamo... hm... in questi ultimi tempi si è un pochino... incasinato... e quindi non so se... eh... lo consiglio ancora di... di utilizzarlo oppure... oppure meno... un'altra domandona... è meglio un'inserzione su Facebook pagando per click o per impression? ora il video tocca a te... no... qualche informazione in più... sulla cosa... ma no... cioè... è un po'... che risposta si può dare... nel senso... sapere un attimino qualcosa in più... cioè... è una domanda che gli nasce così... come curiosità... o perché ha fatto già delle prove... su un qualcosa di specifico... che... che... in cui voleva avere una risposta in più... se risponde... volentieri proviamo a rispondere... io volevo solo attaccarmi un attimo al concetto dei chatbot... che... che diceva Alice... che... io li conosco... mi piacciono molto... avrei già pensato anche delle strutture a cui poterli... incentivare diciamo... per un tipo di mentalità che hanno... che secondo me si sposa bene anche con questo strumento... magari mi fanno un po' sorridere quelli che non lo utilizzano per... perché ci vuole il contatto umano... però se il contatto umano me lo danno dopo tre giorni... eh... sì... era meglio... perché sono gli stessi che poi... mi è capitato di... cercare di far capire che... ho capito che è bellissimo avere un whatsapp business sul computer... però... anche se è un whatsapp business ed è sul computer... la risposta dopo due giorni... allora tanto vado a mandare un email... un messaggio automatico... insomma... poi capisco che il messaggio può arrivare anche in un secondo momento... però ci sono... ogni tanto c'è la prenesia dell'apertura di tutti i canali possibili... immaginabili... come grazie a Dio vedo molto meno adesso... un po' di anni fa... trovavo l'apertura di tutti i canali social possibili... immaginabili... poi lasciati tutti la magari... però... perché non farsi Facebook... Instagram... Youtube... Twitter... Pinterest... e tutti quelli che ci andavano dietro... e poi lasciati... Snapchat... Snapchat... tutto... e poi... quindi... c'è una gestione... comunque i chatbot possono essere un canale interessante... anche in una logica di gamification in realtà... dove si fa interagire l'utente... non tanto come customer care... come sistema per ricevere prenotazioni... che forse come dite voi è un po' ostico... e c'è quel discorso lì della scadenza della finestra di temporalità... ma l'utente che magari interagisce con il chatbot... è una sorta di... anche un gioco legato anche ai contenuti... potrebbe essere interessante... quindi... si spiegano delle cose sul territorio... si fanno giocare un po' gli utenti... domande, risposte... tornano indietro... c'è una sorta di gioco interattivo... a cui poi si porta magari alla generazione di un lead... che non significa prenotazione... però magari possiamo creare un database di mail... o un database di contatti... poi da utilizzare successivamente... quindi in una fase intermedia del fan... che potrebbe essere... e l'ho visto utilizzare in realtà in qualche struttura... molto poco... però qualcuno effettivamente la ha provato a utilizzare... è arrivato un commento... vi siete lamentati voi di qualcosa? no... dall'inizio... qui abbiamo Antonietta che scrive... vi lamentate voi... ma cosa devono dire le agenzie e viaggi... è da marzo... che nessuno prenota... voi per altri... lavorate anche su internet... se fate le scarpe alle agenzie... non collaborate per niente... e le fate morire... non penso che era rivolto a noi... mi sarei sbagliato... mi sarei sbagliato... sbagliato video... noi lavoriamo... tra l'altro noi lavoriamo con le agenzie... perché no... anzi... in alcune strutture lavoriamo tantissimo con le agenzie... rispetto alle volte... penso Alice... con il bike ancora di più... si... molto molto di più... con... lavoriamo nel mondo cicloturistico... assolutamente... si... lavoriamo tantissimo con... con le agenzie... e quindi... non... infatti... no... anzi... anche lavorando in albergo... ho sempre avuto ottimi rapporti con le agenzie... abbiamo sempre avute tante... che hanno sempre fatto il loro lavoro... abbiamo sempre avuto ottimi rapporti... quindi... non so... non ho capito il senso di... chi vuole far morire le agenzie... anzi... anzi... magari... poi... Carlotta... se ci aiuta a capire meglio... a cosa ti riferivi... rispondiamo anche a te... Gianluca dice... per fortuna... è fallito Google Plus... è davvero... abbiamo sforato un po'... e... io... ringrazio chiaramente... chi ci ha seguito fino adesso... ringrazio anche voi... Alvise... Alice... per... aver partecipato a questo... a queste live... tantissime informazioni... molto molto interessanti... anche... tanti consigli... oltre a contenuti... bravi... grazie... e... poi beh... il mitico Armando... è arrivato un po' tardi... lo vedo pure stanco... però dai... ci ha messo... ci ha messo pure la sua pezza... grazie... salutiamo tutti... e... se volete... chi lo ve indifferito... se volete fare altre domande... penso che... voi ci siete... su tutti i social... potete... se volete... tranquillamente... rispondere... assolutamente... sì... grazie... del... buona cena... grazie a voi... alla prossima... e ci vediamo presto... ciao... ciao... ciao...